Un'amicizia che parte dal lontano 27 agosto 1944, quando le truppe del secondo corpo polacco, comandato dal generale Anders, liberarono Fano dall'invasione nazista assieme all'esercito inglese. Un'amicizia coltivata nel tempo, rafforzata dall'attuale amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha concretizzato il rapporto in Polonia con la prima firma del gemellaggio con la città della Fortuna, che verrà suggellata sabato 4 agosto alle ore 11 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Dopo la cerimonia che ha visto il sindaco Seri e la presidente del Consiglio, Fulvi, piantare simbolicamente una pianta nel giardino a fianco del municipio di Velixia, il protocollo verrà portato a termine con la sigla del patto a Fano. Nasce questo rapporto perché parte dall'esperienza, da tutta una serie di progettualità che portiamo alle spalle, che hanno visto queste due realtà vicine. È un modo per far crescere e rendere sempre più internazionale la nostra città, una città turistica. Quella zona guarda con molto interesse alle nostre zone, è una città di mare, e quindi anche in prospettiva questo gemellaggio può portare molto in termini turistici ed economici. Per cui domani, con la presenza del sindaco di Velisca e del presidente del Consiglio Comunale della città di Velisca, presigleremo questo gemellaggio, questo protocollo, e quindi Velisca si unirà alle tre città che già sono gemellate con Fano, cioè Rastat, Santuallemone e Santolbals.